È un programma davvero che abbiamo fatto con il cuore, come tutte le cose che ci piacciono, che ci appassionano, che ci rendono felici. Era giusto ovviamente pensare al Natale, che è il periodo più bello, magico e luminoso di tutto l'anno, e ovviamente pensare anche ai bambini che sono in assoluto i protagonisti del Natale. E da qui nasce questo programma assolutamente divertente, spensierato, semplice, che ovviamente vi invito a seguire. E sono convinta che piacerà anche ai più grandi. Canteremo, leggeremo filastrocche, ma soprattutto racconterò delle curiosità legate al Natale. Sarò nelle vesti per la prima volta di Mamma Natale come aiutante ufficiale di Babbo Natale. È stato davvero un piacere poter parlare ad un pubblico per me comunque nuovo, che era quello dei bambini. L'ho fatto davvero con semplicità e sperando che sia ben apprezzato. Andrà in onda dal 6 di dicembre ogni martedì e giovedì dalle 19.